Ciao amiche, ciao amici, benvenuti all'interno di questo contenuto. Oggi andiamo a vedere come iniziare a investire in Bitcoin, perché nell'ultimo periodo tantissime persone si sono avvicinate a questo settore, a questo tipo di investimento, a questa asset class in generale, e si sono interessate probabilmente per le tante notizie che ci sono state per l'approvazione degli ETF, ma probabilmente anche per l'ottimo rialzo, per le ottime prestazioni che Bitcoin ha avuto nell'ultimo anno. Diciamo che da un anno a questa parte, più o meno, Bitcoin ha fatto un 100-120% di rialzo. Chiaramente non sappiamo dove andrà Bitcoin, se andrà a un milione di dollari, come dicono alcune previsioni, se invece rimarrà sempre fermo a quest'altezza dove siamo ora, diciamo che la linea storica, la serie storica dei dati di Bitcoin, è piuttosto interessante, visto che da quando è nato non ha fatto altro che salire a livello di trend. Per scongiurare ogni dubbio, no, non vi sto consigliando di investire in Bitcoin, e fate le vostre riflessioni, non sono un consulente finanziario, mi reputo un educatore finanziario, ossia mi piace insegnare, sia qui su YouTube che su Instagram, come funzionano tutti gli strumenti finanziari. Detto questo, mettete un bel like a questo video, iscrivetevi qui sotto, e adesso possiamo iniziare a vedere come investire in Bitcoin, se volete farlo chiaramente. Bene, per iniziare a investire su Bitcoin, ma in realtà per iniziare a investire su qualsiasi asset, anche della finanza tradizionale, bisogna prendere in considerazione tre punti principali. Il primo punto è quello dell'acquisto dell'asset, il secondo punto è quello della detenzione, della conservazione dell'asset, e il terzo punto è quello della rivendita dell'asset, ossia in che momento voglio scegliere di uscire dall'esposizione su quella specifica asset class. Chiaro che se comprate Bitcoin, perché pensate che Bitcoin sia la moneta del futuro, e non la volete più rivendere, perché pensate che in futuro le monete fiat come il dollaro, l'euro, lo yen, tutte quelle che conosciamo oggi e non esistano più, beh, allora chiaramente quello che vi interesserà sarà solo comprare Bitcoin, detenerlo, conservarlo al meglio e immagino mai più rivenderlo. Se invece approcciate Bitcoin come un asset class, quindi come un asset da comprare, aspettare che si alzi di valore e poi rivendere, allora chiaramente dovete tenere in considerazione anche il terzo punto. Partiamo quindi dalla prima fase, acquistare Bitcoin. Come si fa ad acquistare Bitcoin? Beh, ci sono varie modalità, però sicuramente quella più facile, più rapida, più diretta, soprattutto per chi si sta affacciando adesso, per chi sta iniziando ad annusare adesso il mondo delle criptovalute, è quella di utilizzare un exchange. Un exchange è una piattaforma, di fatto è un'azienda, che mette a disposizione dei mercati all'interno dei quali si possono scambiare euro, per esempio, per criptovalute. Quindi io depositerò all'interno dell'exchange euro, per esempio tramite bonifico oppure tramite la carta, dopo vediamo anche i costi, e all'interno della piattaforma dell'exchange posso cambiare euro o dollari o altre valute per Bitcoin. Di exchange ne esistono veramente tanti e quindi uno si può domandare, ma da dove mi conviene partire? Qual è il più economico? Qual è il più abbordabile per una persona che sta iniziando adesso ad avvicinarsi al mondo cripto e non si vuole perdere nel mare magnum di tutto quello che esiste? Bene, qualche tempo fa ho fatto questo video, all'interno del quale ho affrontato proprio l'argomento quali sono i migliori exchange crypto, quali sono i più affidabili, i più economici. Quindi se volete andatevelo a vedere per capire a modo, per vedere a modo una classifica di un ente esterno che crea proprio una classifica di rating sui vari exchange. Fra i vari sono venuti fuori Coinbase, Bybit, Kraken, Binance, Young Platform e sono tutti exchange assolutamente interessanti, Young Platform è italiano, gli altri invece non sono italiani, insomma non sono nati in Italia, ma adesso siccome non voglio lasciare niente al caso, voglio entrare all'interno di un exchange, in particolare Bybit, e vi faccio vedere tutto il percorso per andare ad acquistare Bitcoin realmente. Entriamo quindi all'interno dell'applicazione di Bybit, riconoscimento biometrico per la sicurezza del mio account. Prima di comprare Bitcoin la cosa che dobbiamo fare è depositare euro, quindi andremo a cliccare il pulsante qua in alto a destra con scritto deposit. Come vedete posso fare tutto insieme, depositare euro e contestualmente andare ad acquistare Bitcoin tramite il primo pulsante, Buy with EUR, dove c'è scritto Recommended, quindi raccomandato. Purtroppo ancora l'applicazione di Bybit non è in italiano, a breve dovrebbero rilasciarla, ma insomma è tutto abbastanza intuitivo, poi ve lo sto dicendo, quindi fidatevi che è molto molto semplice. Buy with EUR e a questo punto dobbiamo andare a dirgli, innanzitutto dobbiamo controllare che in alto a destra si è selezionato Bitcoin, perché potrei anche comprare un'altra criptovaluta che si chiama Ethereum, potrei comprare anche USDT, attenzione perché deve essere chiaramente selezionato Bitcoin. Seleziono BTC, Bitcoin, lo riconoscete dal simbolo e dal ticker BTC e a questo punto vado a selezionare per esempio 100, metto 100 euro che in Bitcoin saranno 0,002 circa. A questo punto vado a cliccare Next e ho due possibilità per pagare. Posso pagare o col saldo che ho all'interno del mio account oppure con la carta. Acquistare con carta di solito costa di più, quindi vi consiglio di fare con bonifico, a meno che proprio non abbiate urgenza di acquistare in quel momento e allora potete farlo con carta pagando qualche punto percentuale, ma poi lo vediamo. Invece potete acquistare tramite il vostro EUR balance, chiaramente ripeto ricaricandolo col bonifico, quindi siccome attualmente non ne ho abbastanza, ho insufficient balance, devo andare a depositare degli euro all'interno del mio conto. Quindi cliccherò qui e a questo punto gli dirò ok, io voglio depositare 100 euro perché sono quelli che poi voglio utilizzare per comprare Bitcoin e per farlo voglio utilizzare un bonifico SEPA. Vedete, il bonifico SEPA sono i bonifici classici che abbiamo in tutta Europa. Basta quindi cliccare il pulsante lì sotto di conferma, faccio continua e a questo punto automaticamente lui mi dirà guarda se depositi 100 ti arriveranno 99 perché c'è un euro di commissione che dovrai pagare. Quindi io per sicurezza mando 101, deposito 101, così che anche levando l'euro di commissione mi arrivino 100 euro e posso acquistare veramente 100 euro. Quindi faccio pay e a questo punto vengono fuori le coordinate bancarie che mi servono per andare a depositare i soldi perché ogni volta che si apre un accanto su Bybit, ma su qualsiasi altro exchange, automaticamente viene aperto un IBAN a vostro nome verso il quale potete depositare per esempio euro o dollari e quindi utilizzarle all'interno del vostro exchange di riferimento. Come avete visto si tratta di una procedura veramente molto veloce, depositare euro nell'exchange, convertire euro in bitcoin e di fatto poi avete acquistato i vostri bitcoin. Se vi interessa capire meglio come funziona Bybit, ho fatto una recensione super completa, ve la lascio qua sopra, spiego tutte le funzionalità della piattaforma, non solo quella di acquisto, ne spiego tante altre, anche per esempio come fare un acquisto ricorrente, quindi come acquistare, che ne so, ricorrentemente, ogni settimana, ogni mese, 100-200 euro in bitcoin, così da fare un piano di accumulo. Passiamo quindi alla seconda fase, detenere e custodire bitcoin. Perché li volete detenere? Beh, perché li avete acquistati, li vorrete rivendere probabilmente fra un po' di tempo, che sia breve, medio e lungo termine, ma nel frattempo dovete conservarli. Ora, ci sono due possibilità per conservare i vostri bitcoin. La prima è conservarli all'interno di un exchange o all'interno dello stesso exchange che avete, presso il quale l'avete acquistati, quindi avete acquistato bitcoin, li lasciate sempre all'interno di quell'exchange oppure li portate all'interno di un altro exchange che reputate ancora più sicuro per il lungo termine oppure potete trasferire i vostri bitcoin su un hardware wallet. Che cos'è un hardware wallet? Dall'esterno si presenta in questo modo. Ora, questo è un hardware wallet specifico, è un ledger, del quale ho fatto una guida completissima qua nel quale spiego che cos'è un hardware wallet, come si usa, qual è il concetto che c'è, te lo spiego tutto quanto, quindi tranquilli, se vedete quella guida siete veramente un enorme passo avanti. Tramite questo oggetto potete generare degli indirizzi bitcoin e quindi prendere i vostri bitcoin dall'exchange e portarli qua dentro e detenerli qua dentro. Ora, in realtà, non li detenete proprio qua dentro, ma non voglio entrare in tecnicismi, se volete capirci qualcosa di più, quel video che vi ho messo prima è chiarissimo. Quindi, per fare un riepilogo, potete prendere i vostri bitcoin e detenerli all'interno di un exchange è una cosa molto semplice, perché non dovete fare nient'altro che lasciarli là dentro, quindi tutta la sicurezza dei bitcoin è garantita dall'exchange, che solitamente hanno delle procedure, delle norme di sicurezza molto alte, dei sistemi di sicurezza molto alti, ma c'è un rischio di controparte, cioè state affidando i vostri bitcoin a qualcun altro, se l'exchange fallisce, se il CEO scappa con tutti i bitcoin, qualsiasi cosa succeda, diciamo che il rischio di controparte è proprio questo, cioè che voi avete un rischio nell'affidare i vostri bitcoin a qualcun altro. Dall'altra parte potete prendere i vostri bitcoin e metterli all'interno di un hardware wallet, sicuramente siete più sicuri perché potete gestirli voi stessi, ma se perdete l'hardware wallet, se qualcuno vi costringe ad aprire il vostro hardware wallet e consigliare tutti i bitcoin, li avete persi nello stesso modo, quindi è un po' un trade-off, bisogna capire dove volete stare, se volete fare autocustodia con un hardware wallet, mi raccomando, studiate bene come fare autocustodia, altrimenti affidatevi solo ai migliori exchange. A questo punto arriviamo al terzo step, li avete comprati, li avete detenuti, adesso volete venderli, via, voglio guadagnarci, sperando di averci guadagnato chiaramente. Basta andare all'interno di un exchange, se avete i bitcoin all'interno di un exchange, basta andare nell'exchange e pigiare il pulsante vendi, sarà veramente semplicissimo, al contrario esattamente di quello che abbiamo fatto prima, non ci sarà nemmeno bisogno di depositare, perché i bitcoin sono già dentro l'exchange, basta venderli, prendere gli euro, e poi se volete portare gli euro all'interno del vostro conto bancario. Se invece avete bitcoin all'interno del vostro hardware wallet, dovrete prima mandare la vostra hardware wallet verso un exchange, e poi all'interno dell'exchange vendere i bitcoin per euro, e poi sarete nella stessa situazione di prima, potrete prelevare gli euro eventualmente, e mandarli verso il vostro conto bancario. Passiamo quindi alla questione dei costi, quali sono i costi da prendere in considerazione in tutti questi passaggi? Beh, il primo costo è sicuramente quello del bonifico, bonificare euro dalla vostra banca verso l'exchange. Solitamente ormai le banche non richiedono grandi commissioni, di solito le banche ormai hanno i bonifici a zero gratuiti, qualcosa magari 0,2, 0,3, 0,4 se fate bonifici istantanei, vabbè, insomma, vedete voi le vostre commissioni bancarie, però sicuramente c'è quel tipo di costo, e poi spesso gli exchange hanno dei costi di deposito all'interno dell'exchange, per esempio Bybit, avete visto che c'ha un euro, anzi 0,19% con minimo di un euro, altri exchange hanno tutti più o meno questo tipo di costo, chi è gratuito, chi ha qualcosa. Dopodiché abbiamo il costo di conversione, infatti quando convertiamo euro in bitcoin, abbiamo un costo di conversione, spesso è di qualche punto decimale, negli ultimi tempi gli exchange hanno un costo circa di 0,1, 0,2%, se trovate degli exchange che hanno un costo maggiore, io vi sconsiglio di utilizzarli, perché ormai appunto esistono possibilità più economiche. A questo punto avete i vostri bitcoin, se volete mandare bitcoin dentro il vostro hardware wallet, dovrete pagare una commissione alla rete bitcoin, perché tutte le volte che si fa uno spostamento on-chain, bisogna pagare una commissione alla rete bitcoin. Attualmente però questo può variare molto, le commissioni vanno diciamo da qualche euro a 10, 15, 20 euro, anche lì guardatevi un attimo l'exchange e che tipo di commissione vi mette e anche sulla base di questo decidete quando fare il trasferimento, se volete farlo, cioè se avete comprato 100 euro in bitcoin e il trasferimento vi costa 20 euro, è chiaro che insomma 20 euro su 100 sono tantissimi, sono troppi, non ha senso, mentre se già avete 1.000, 2.000, 3.000 euro, 20 euro su 3.000 euro, allora è una percentuale molto inferiore e può valerne la pena. Chiaramente ricordatevi che al contrario quando vorrete vendere dovete fare anche il percorso inverso, quindi mandare dal vostro hardware wallet verso l'exchange e anche in quel caso ci sarà un costo della commissione per la rete bitcoin. A questo punto siamo arrivati alla fine, siamo nella fase di venta, vogliamo vendere i nostri bitcoin esattamente come all'inizio, avremo una commissione dello 0,1-0,2%, perché è sempre la stessa, quella commissione che ci mettono gli exchange è una commissione di scambio, a prescindere che sia in fase di acquisto o in fase di vendita. Siamo arrivati nuovamente con euro all'interno del nostro conto dell'exchange, se vogliamo mandarli sul nostro conto bancario, in quel caso di solito gli exchange applicano una tariffa di 1-2 euro per fare ogni trasferimento. Bene, adesso sono sicuro che è molto più chiara la dinamica per acquistare, detenere e vendere bitcoin, però se c'è qualcosa che non ti torna, hai qualche problema, qualcosa che non è ancora ben chiaro, mi raccomando, scrivimi qui sotto nei commenti. A me piace tantissimo rispondere a tutti quanti, anzi ogni commento spesso mi permette di spiegarmi ancora meglio, di capire se c'è qualcosa che posso spiegare ancora meglio e mi permette eventualmente di creare nuovi contenuti. Quindi a me piacciono tantissimo i contenuti. Mi raccomando, qualsiasi cosa scrivimela qua sotto. Prima di chiudere questo video, mi sembra importante ricordare due modalità, le due più utilizzate, che si usano per investire in tutti gli asset del mondo, ma in questo caso in bitcoin. La prima è un piano di accumulo. Piano di accumulo significa accumulare nel corso del tempo, che ne so, 100 euro a settimana, 100 euro al mese, 200 euro al mese, 300 euro al mese, in maniera tale da acquistare a prescindere dal prezzo dell'asset. Diciamo che l'idea è che l'asset nel corso del tempo si apprezzi costantemente, quindi nel corso degli anni bitcoin o chi per lui vada sempre su, e quindi io acquisto a intervalli regolari a prescindere dal prezzo e poi quando vorrà vendere avrò una media pesata di tutte le varie entrate al prezzo in cui sono entrato, ma alla fine la statistica dice, diciamo i dati storici dicono, che avrò un guadagno rispetto a tutto quello che ho messo dentro. La seconda modalità di investimento invece è quella di prendere tutto quello che ho e investirlo istantaneamente, per esempio su bitcoin, in un momento solo. Pensate che la statistica ci dice che questo è il modo per essere più efficienti, per avere una rendita migliore nel corso del tempo, però è anche vero che ci espone a una volatilità immediata molto più alta, perché se io metto tutto quello che ho su bitcoin adesso e bitcoin fa un meno 50%, io vedrò un meno 50% sul mio patrimonio e questo può fare molta paura, può allontanare le persone dall'investimento. Quindi, attenzione, statisticamente sarebbe meglio mettere tutto insieme, ma a livello di approccio all'investimento, a livello di psicologia, di tranquillità nell'investire, solitamente chiunque sceglie il piano di accumulo, ossia andare a comprare nel corso del tempo a intervalli regolari. Scegliete un po' voi quella che vi sembra la migliore strategia. Chiaramente potete farmela sapere anche qua sotto, potete farmi sapere quello che avete scelto o, ripeto, eventuali dubbi, problemi, perplessità che avete. Io vi ringrazio per aver visto questo video, mettete un bel like, iscrivetevi qui sotto e noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao!